A volte mi piace ascoltare il palpito della città e si ode meglio quando la sua gente dorme e quando sono solo. La notte era calda e volevo sentire la brezza sul volto. Camminai nel primo giardino che creamo dentro queste mura per ricordarmi di quanta strada abbiamo fatto. Quanti sacrifici abbiamo compiuto da allora. Ma circondato dal verde di quel giardino e dal bisbiglio della città, riuscivo a sentirmi in pace per un po'. Hai mai percepito lo sguardo di qualcuno su di te? Potrai anche non crederci, ma sapevo che c'era prima di vederlo. Mi voltai ed eccolo, Uldren Sov, il suo spirito persecutore. Poi gridò qualcosa. Sentii come un rumore tra le fronde alle mie spalle. Mi voltai con l'arma in pugno senza accorgermi di averle stratta. Accadde tutto in un lampo. Un assassino cabal, ovviamente di Kayator. Quando mi voltai per guardare Uldren, non c'era più. Uno spirito tormentato? Un'allucinazione? Se prima dormivo male, ora non dormirò del tutto. Un'allucinazione? Un'allucinazione? Un'allucinazione?